È il periodo dei calendari, intesi come regali di Natale, omaggio della ditta, agendine da piazzare sulla scrivania. Per il mondo dello sport in generale verrebbe da dire anno nuovo, calendario nuovo. Nella selva isterica di rinvii e cancellazioni, quasi tutte le società si trovano a dover ricompilare il calendario del 2022, perché la seconda parte di stagione è stata e continua ad essere suscettibile di modifiche. Pallacanestro Biella ora dovrebbe conoscere con esattezza le date dei recuperi e la nuova riformulazione del calendario. Anzitutto, le partite saltate. Il turno del 2 gennaio, valido per l'ultima del girone di andata, a Milano contro l'Urania, era già stato posizionato di comune accordo tra le due società alle 20.30 di giovedì 10 marzo. L'unica eccezione per un turno che si è disputato più o meno regolarmente lo scorso weekend. Restava da capire come la Lega avrebbe scelto di sistemare le altre due giornate cancellate a gennaio, valide per la prima e la seconda del girone di ritorno. Per Biella, le due delicate partite con Trapani al Forum e sul campo della Sigeco Piacenza. Il match casalingo contro i Granata siciliani verrà recuperato in un altro turno infrasettimanale alle 20.45 di mercoledì 23 febbraio. Un orario peraltro insolito. Le partite tra squadre piemontesi e siciliane vengono normalmente anticipate per permettere alle rispettive comitive di rientrare a casa in serata, rispettando le tempistiche aeroportuali. Una buona notizia per la struttura ricettiva locale che evidentemente ospiterà l'intera squadra e il seguito di Trapani per una notte. L'altra particolarità è data dal fatto che tutte le altre gare di quella giornata si disputeranno la settimana precedente, il 16. Il terzo e, si spera davvero, ultimo recupero è stato inserito in agenda per mercoledì 16 marzo alle 20.30 al Palabanca di Piacenza, questa volta in contemporanea con la maggior parte dei match di quella giornata. Il resto del calendario è stato per ora confermato, senza slittamenti o modifiche. Come già detto, la situazione sembra provvisoria. Radiotampone rimane sempre accesa, perché qualche piccolo innocuo focolaio interno potrebbe sempre rimescolare le carte, le date, i programmi. La retrocessione, perché arriva ultimo però, quella non è in discussione. Grazie a tutti.